Beh intanto, guardi, provocatoriamente dirò che intanto dobbiamo realizzarli, nel senso che nonostante siano passati ormai 15 anni dall'istituzione dei primi 5 parchi marini, il sesto come sapete è stato istituito con legge regionale dello scorso dicembre, quindi abbiamo 6 parchi marini, ancora rimangono qui nella stanza della regione, noi abbiamo cominciato ora ad aprire le sedi e quindi aprire i parchi sui territori, abbiamo cominciato con Amendolara lo scorso 6 ottobre, proseguiremo con Praia Mare, quindi Riviera dei Cedri il prossimo 15 dicembre e agli inizi dell'anno nuovo apriremo la sede a Bivona, si sta ristrutturando la Tonnara di Bivona che sarà la sede regionale dei parchi per proseguire con Belmonte. Io sono ottimista, è chiaro che noi abbiamo un grande lavoro da fare, aprire i parchi significa poi cominciare a lavorare su progetti quali segnaletica, cartellonistica, messa a sistema dell'offerta turistica integrata, noi vorremmo utilizzare i parchi non solo d'estate, noi vorremmo utilizzare i parchi come attrattori per fare in modo da, come dire, da anche da secondare questa straordinaria vocazione della regione Calabria che in pochi chilometri racchiude risorse costiere con le risorse interne, beni culturali, beni naturali ma anche beni culturali straordinari, in ultimo l'enogastronomia. Beh, in due maniere, intanto ripeto, noi abbiamo ereditato da pochi mesi l'Ente e lo stiamo rilanciando, quindi stiamo predisponendo l'ex pianto organico, il cosiddetto piano del fabbisogno e dell'organizzazione delle attività. Ad oggi ci sono dei contributi ordinari e minimi che abbiamo discusso l'altro giorno in Consiglio regionale con la competente commissione di bilancio che vanno sicuramente rafforzati e poi c'è una destinazione sulle grandi derivazioni che viene destinata ai parchi e inoltre abbiamo l'opportunità di utilizzare anche noi come ente strumentale i fondi strutturali. Certamente noi vogliamo attrarre finanziamenti ai privati, ma ripeto, paradossalmente, io la voglio dire una volta per tutte perché questa storia delle risorse finanziarie maschera poi la nostra incapacità a fare le cose. Allora in Calabria, credo io, come in buona parte delle regioni meridionali, come dire, le risorse finanziarie certamente rappresentano una condizione indispensabile per lo sviluppo, però se riaggiungere non sufficiente e lo dimostrano gli sprechi, i tanti sprechi fatti, ma dalla cassa del mezzogiorno in poi, i pop, i por, eccetera, i soldi non utilizzati, utilizzati male, le cattedrale nel deserto e via dicendo, diciamo. Dopodiché io sono sicuro che siccome i soldi vengono anche restituti in buona parte indietro, che laddove non riusciremo a mettere in campo un'ottima progettualità e a realizzarla e quindi anche una buona capacità realizzativa, io penso che i soldi arriveranno e ci saranno. Sì, la stazione zoologica già oggi è referente della maggior parte delle aree marine protette. Noi governiamo tutto il sistema delle aree marine protette italiane. Il fatto di avere ora la possibilità, grazie alla presenza occhiuto, di poter essere la parte scientifica dei parchi marini è per me da calabrese motivo d'orgoglio. Poi tra l'altro il fatto di aver aperto da quattro anni ormai la sede da Mendolara significa, come dire, avere riconosciuto il lavoro che è stato fatto. Noi forniremo tutta l'assistenza in termini anche di aggiustamenti dei piani di gestione, di individuazione degli ecosistemi naturali, di controllo anche di possibili legalità, eccetera. Che poi comunicheremo alle capitanelle di Porto che hanno il ruolo importante proprio di controllare che le cose siano fatte per bene. Sì, io lo dico spesso, in un posto piccolo, bello come Portofino, ma piccolo, si fanno all'anno 5-6 milioni di immersioni in tutto l'anno. Noi in Calabria potremmo offrire all'appassionato subacqueo cose uniche, perché la Calabria, lo ricordo, ha il più elevato tasso di biodiversità del Mediterraneo. E i cinque parchi avarini sono nei cinque posti più belli della nostra regione, che è bella tutta, però là proprio penso all'ultimo, il sesto, il parco da Mendolara, che è il più grande d'Italia, il parco marino regionale è il più grande d'Italia, dove c'è il Corallo Nero e il Corallo Rosso nello stesso ambiente, che è uno dei pochissimi casi, tra l'altro a profondità, anche accessibili dal subacqueo.